Un incontro di Guay Thai, 3 round da 1 minuto e mezzo. Petrocca contro Maestro, a vicino al signor Rottoni Maio. E' la prima presa dell'incontro, Petrocca-Maestro. E' la prima presa dell'incontro. Allora, abbiamo appena conosciuto, con il tesema che si è l'unico, di allontarsi da ringa, di non acorgiarsi, di mantenere una distanza di singolezza, soprattutto l'angolo e consentire la presenza del solo maestro e del secondo. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.